Benvenuti a tutti. Siamo qui oggi per esplorare insieme le meraviglie dell'astrologia e scoprire cosa hanno in serbo per noi le stelle. Che voi siate appassionati di astrologia da anni o semplicemente curiosi di sapere cosa vi riserva il futuro, siete nel posto giusto. Segno a liete. Sentire che il partner si è evasivo può suscitare il sospetto che ci sia qualcosa di più dietro, anche se non necessariamente grave. In queste situazioni, è sempre consigliabile affrontare apertamente la questione e cercare di risolvere i problemi insieme. Se sei single, potresti ritrovarti immerso in una certa tristezza mentre rifletti su alcune questioni irrisolte della vita. Potresti sentire il desiderio di muoverti con eccessiva cautela, come se ci fosse una minaccia imminente. Tuttavia, respingere gli altri e isolarsi potrebbe portare solo alla creazione di un deserto intorno a te. Se ti trovi di fronte a un progetto lavorativo complicato, non esitare a chiedere consigli. Trovarsi in difficoltà non è una sconfitta, ma un'opportunità di imparare e crescere. Una giornata vivace in cui non ci sono motivi reali per lamentarsi, a parte per coloro che potrebbero sentirsi sopraffatti dalla mole di lavoro o da interazioni poco collaborativi. Si consiglia loro di mantenere la calma e di affrontare le sfide con determinazione, poiché il cielo è favorevole e offre un'energia positiva da canalizzare al meglio. Fate attenzione alle polemiche e alle critiche, potrebbe essere necessaria pazienza nei rapporti con capricorno e cancro. Segno Toro. Per molti di voi sarà un periodo favorevole per far emergere le vostre qualità migliori. In questo modo, potrete evolvervi naturalmente in un partner ideale, senza forzature, lasciando che la vostra vera natura vi guidi verso una relazione serena e armoniosa. Se sei single, potresti avere un incontro al buio che si rivelerà sorprendente e andrà oltre le tue aspettative. Questa situazione potrebbe essere particolarmente intrigante per coloro che cercano forti emozioni senza pensare al futuro. Sul fronte lavorativo, vi sentirete pronti a concludere affari, fare investimenti promettenti e firmare contratti vantaggiosi. Avrete tutte le competenze necessarie per assumervi nuove responsabilità. Anche voi, come i nati sotto il segno della riete, state mostrando un bel po' di energia mentre vi adattate ai cambiamenti degli ultimi tempi. È importante non ignorare le questioni, ma affrontarle e superare gli ostacoli. Con l'influenza positiva di Giove fino alla fine di maggio, potrebbero aprirsi nuove possibilità nelle relazioni che richiedono una chiusura. Alcune situazioni potrebbero richiedere decisioni drastiche entro metà giugno se non saranno risolte. Segno gemelli. La luna nel vostro segno vi aiuterà a razionalizzare i vostri progetti di coppia e a consolidare le idee che avete insieme al vostro partner lavorerete per materializzare idee e sogni condivisi, rendendo questa giornata davvero speciale e significativa. Se sei single, potresti aver preso la decisione di apportare cambiamenti radicali alla tua vita abituale. Ciò potrebbe farti sentire quasi invincibile, determinato a superare qualsiasi ostacolo. Questo stato potrebbe temporaneamente portare a una certa distanza dagli amici, poiché sarai concentrato su altre priorità. Fortunate coincidenze vi guideranno verso il raggiungimento degli obiettivi lavorativi. Con determinazione, otterrete i risultati desiderati, dimostrando sicurezza e abilità nel gestire le situazioni più disparate. Il vostro percorso di crescita continua, anche se potreste sentirvi un po' nervosi e agitati a causa dell'influenza complicata di Marte. Nonostante alcuni momenti di tensione, il transito favorevole della luna renderà gli incontri piacevoli nel pomeriggio. L'auspicio è che chi ha vissuto momenti difficili possa superarli e tornare a sorridere presto. Segno cancro. La mancanza di affidabilità delle persone potrebbe infastidirvi e preoccuparvi, specialmente se state aspettando risposte importanti. Date la vostra energia, agite e sollecitate le risposte, soprattutto sul lavoro. Anche se alcune richieste possono essere state respinte, non considerate la partita persa. La seconda metà del mese potrebbe portare novità e dovrete resistere a una fase di attesa anche in amore. La comunicazione sarà al centro della giornata, permettendo al partner di scoprire nuovi lati della tua personalità che sono rimasti nascosti. Questo ravviverà l'atmosfera e darà il via a nuovi progetti entusiasmanti da intraprendere insieme. Se sei single, potrai godere di una giornata piacevole e rilassante, avendo tutto ciò di cui hai bisogno, soprattutto silenzio e pace. Un incontro con un caro amico, della buona musica e un po' di lettura renderanno questo giovedì semplicemente perfetto. Sul fronte lavorativo, le cose procederanno a un ritmo serrato, ma grazie a una gestione intelligente delle situazioni, affronterai ogni contingenza con la dovuta concentrazione. Segno leone. Oggi si prospetta una splendida giornata per voi nativi del segno del leone. Se avete recentemente iniziato una relazione, questo giovedì si preannuncia magico, con gli astri che vi sorridono. Vivrete emozioni uniche, percependo vibrazioni che vi riscaldano il cuore e rafforzano la pace nella vostra relazione. Anche per i single, nonostante le differenze nella modalità di amare e esprimere i sentimenti, ricordate che gli opposti si attraggono. Quindi, non lasciate che i dubbi vi assalgano, ma seguite l'istinto del cuore. È un giorno favorevole per proporre nuove idee e portare avanti progetti lavorativi che vi appassionano. Un nuovo percorso di vita vi attende, con Giove che vi sorride a partire da giugno. Presto potrete realizzare un desiderio importante o raggiungere un obiettivo significativo. Venere ora vi sorride, ampliando il vostro raggio d'azione che prima era limitato. L'amore sarà favorevole, ma è importante essere aperti e non chiudersi a storie impossibili. Sei un individuo creativo con una prospettiva ispiratrice della vita. Oggi, l'universo ti spinge a canalizzare la tua passione verso un progetto concreto e a raccogliere i frutti del tuo impegno. È fondamentale che tu creda in te stesso senza riserve. Segno Vergine L'oroscopo di oggi, 11 aprile, promette emozioni straordinarie. Le energie intense favoriranno una migliore comprensione e armonia nella coppia. Per molti, questa giornata porterà una relazione positiva e gratificante. Per i single, l'intensità abituale sarà arricchita da una congiunzione astrale giocosa, rendendo la comunicazione con gli amici ancora più fluida e divertente. Nel lavoro, siate aperti alle opportunità per migliorare la situazione economica, potreste essere particolarmente ricettivi. La direzione che intravedi è quella giusta per te. Seguire il sentiero tracciato da qualcun altro risulterebbe vano se non suscita passione nel tuo cuore. Dedica del tempo a scoprire di cosa ha bisogno il tuo bambino interiore in questo momento e abbraccia quella direzione con fiducia. Dopo giorni di dubbi, ora siete più sereni. Il 11 aprile avrete la luna favorevole nella prima parte della giornata, perfetta per affrontare conversazioni importanti o sistemare questioni in sospeso. Nella seconda parte, siate prudenti in amore per evitare polemiche. Meglio rimandare eventuali situazioni complesse e aspettare un momento più favorevole. Segno bilancia. In ambito sentimentale, questo giovedì potrete vivere una rinnovata passione nella vostra relazione di coppia. Mostrerete affetto e tranquillità verso il partner, sentendovi come due giovani innamorati. Per i single, sarete affascinanti, amichevoli e comunicativi. Se interessati a qualcuno, cercate di organizzare momenti insieme per comunicare meglio. Approfittate dell'energia di questo giorno. Nel lavoro, con il favore delle stelle, potreste ottenere grandi risultati in progetti o opportunità. Sentite l'irresistibile desiderio di cambiamento e di chiudere con situazioni che vi limitano. Anche se ci sono sfide da affrontare, il cambiamento porterà crescita. Potreste essere accusati di egoismo o indifferenza, ma è importante affermare la vostra vera personalità con fermezza e gentilezza solo con chi lo merita. Crea le condizioni ottimali per espandere il tuo cerchio di amicizie. La chiave è connetterti con individui che risuonano alla tua stessa frequenza anziché cercare di convincere gli altri ad apprezzarti. Segno Scorpione. La luna in gemelli per questo giovedì si presenta in modo neutrale per molti di voi, senza causare problemi evidenti. Tuttavia, il suo sostegno potrebbe mancare, quindi agite con determinazione e pragmatismo. In ambito amoroso, scoprirete molte affinità con il partner, anche in relazioni iniziate senza molta convinzione. Dedicate anche del tempo al benessere fisico per benefici immediati. La luna in opposizione potrebbe creare incertezze, ma nel pomeriggio le cose miglioreranno. Evitate le competizioni inutili e concentratevi su ciò che è importante per voi. Vi aspetta un'estate di sperimentazioni in amore e nel lavoro, con imprevisti che potrebbero presentarsi ma che affronterete con determinazione. L'universo attiva il tuo settore professionale, instillandoti un atteggiamento produttivo che potrebbe portare grandi vantaggi alla tua carriera. Non esitare a prendere l'iniziativa e ad esprimere le tue idee con sicurezza. Aiuta gli altri a comprendere come possono sostenerti. Segno sagittario. L'oroscopo odierno, giovedì 11 aprile, promette una giornata piena di successi in vari ambiti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sentirai un maggiore affetto del solito, permettendoti di dedicare del tempo alle tue passioni. Il tuo partner ti coinvolgerà in attività fuori dall'ordinario che stimoleranno la tua curiosità, regalandoti nuove ed entusiasmanti emozioni. Se sei single, sarai aperto a nuove corteggiature. Molti di voi desiderano cambiamenti nella propria vita per uscire dalla routine quotidiana. Importanti rivelazioni sono in arrivo, portando gioia e felicità. Sul fronte lavorativo, sarai in grado di definire chiaramente i tuoi obiettivi per questo periodo e pianificare ogni dettaglio con precisione. L'influenza discordante di Marte porta con sé alcune preoccupazioni, è evidente che non si riesce a realizzare tutto ciò che si desidera, generando così nervosismo. Le responsabilità e gli elementi di disturbo limitano le vostre azioni, facendovi sentire poco indipendenti nelle decisioni o circondati da persone ambigue. Fate attenzione a non esagerare e gestite bene la serata per evitare di tornare a casa esausti, sia fisicamente che mentalmente, e pieni di pensieri. Tuttavia, il favore di Venere agevola le storie intriganti. Segno Capricorno Secondo le previsioni odierne, ti aspetta un periodo di bassa energia. Nell'ambito amoroso, potresti sperimentare una mancanza di armonia, le comunicazioni con il partner potrebbero essere complicate e situazioni tranquille potrebbero trasformarsi in momenti stressanti. È importante affrontare il lavoro con determinazione e evitare la procrastinazione, poiché il tempo diventerà presto un elemento critico e la tua organizzazione sarà essenziale in tutti gli aspetti della vita. Quando necessario, prenditi del tempo per riflettere sulle tue decisioni con calma. Se sei single, fai attenzione alle apparenze ingannevoli. Con alcune influenze astrali discordanti, cerca di essere selettivo a e lucido a nei tuoi giudizi. Finalmente sta tornando l'energia che vi contraddistingue, dopo due settimane caratterizzate da nervosismo e tensione. La pazienza ha fatto la differenza, insieme al vostro temperamento solido e stoico, che potrebbe essere messo alla prova da soci, collaboratori o partner che non soddisfano le vostre esigenze. Approfittate dell'occasione per prendere l'iniziativa e chiarire eventuali questioni con chi mostra immobilismo. Dopo il 16, arriveranno risposte più concrete, anche se permangono dubbi nei rapporti con leone e acquario. Segno acquario. Le prospettive attuali potrebbero non essere ottimali. In amore, potresti affrontare sfide a causa di influenze astrali poco favorevoli. Potresti desiderare una comunicazione più profonda con il partner, ma incontrerai ostacoli che potrebbero portare tensioni e discussioni. La situazione nella coppia potrebbe stagnare e, se ci saranno cambiamenti, potrebbero essere negativi. Per i single, la giornata potrebbe presentare problemi e malintesi, mentre divergenze con i fratelli o le sorelle potrebbero causare tensioni familiari. Sul fronte lavorativo, sarà importante mantenere una buona impressione e cercare di essere cordiale con i colleghi, nonostante possibili sfide. La giornata inizia bene grazie all'aspetto positivo della luna nel pomeriggio, con solo qualche dubbio al mattino, ma niente di eclatante. La serata promette di migliorare ogni cosa, quindi approfittatene nel modo più piacevole possibile. Le amicizie che nascono in questo periodo promettono bene, così come questo periodo favorisce lo sviluppo della creatività sul lavoro. Alcuni potrebbero voler liberarsi da un contratto per rinnovarsi, una pratica che gli acquario adottano di tanto in tanto per evitare la noia e la malinconia. Segno pesci. L'oroscopo di oggi, giovedì 11 aprile, valuta questa parte della settimana con un solido 4 stelle della normalità, è importante apprezzare ciò che hai. Nell'ambito sentimentale, mantenere fiducia nella persona amata è fondamentale. Quando ti senti incompreso a, la relazione può diventare un rifugio sicuro. L'astrologia sembra essere dalla tua parte e potrebbe regalarti emozioni straordinarie. Per coloro con un buon ascendente, questo giovedì si prospetta come una piacevole giornata da trascorrere in coppia. I single potrebbero trovare conforto, poiché il pianeta dell'amore sembra rivolgere la sua attenzione verso di loro. Sul fronte lavorativo, la comunicazione e la voglia di imparare saranno centrali. Vi sentite stanchi e un po' nervosi, fate attenzione soprattutto nei rapporti con persone della Vergine e del Sagittario. Avete l'impressione di dare molto ma ricevere poco, generando frustrazione e sensazione di essere intrappolati. Evitate il vittimismo e concentratevi al massimo, poiché in questo periodo avete bisogno di tutta la forza possibile. Le relazioni nate il mese scorso meritano di essere coltivate, nonostante possano emergere difficoltà di adattamento. Grazie.